Una nuova fontana luminosa a Verbagna. Del progetto si è tornati a discutere nei giorni scorsi al Grand Hotel Majestic di Pallanza in un incontro promosso da Comune e Proloco per verificare come viene accolta l'idea di ripristinare una fontana luminosa galleggiante che richiami, sia pure in forma nuova, i fasti di quella che tanto successo tenne alcuni decenni orsono. Un'installazione che si propone come fattore di rilancio turistico ed elemento di forte attrazione permanente per i vacanzieri, un elemento decisivo per il rilancio del lungolago di Pallanza. Vuole essere anche un'occasione di aggregazione per i residenti. Come hanno premesso il sindaco Marchionini e la presidente della Proloco Brizio, entusiasmo, condivisione, collaborazione e sostegno di tutte le realtà cittadine sono la premessa imprescindibile di quella che deve presentarsi come la fontana di tutti i verbanesi senza divisioni e riserve. A tale condizione si potrà avanzare per approfondire gli aspetti operativi ed economici con il comune che farà certo la sua parte in modo responsabile, aiutando anche nella ricerca dei finanziamenti necessari per dare vita a una struttura indubbiamente complessa e impegnativa. Su cosa si sta lavorando? Due sono le proposte di Massima che potrebbero adattarsi al contesto e che sono state illustrate dall'esperto Mauro Giaccherini. Una grande fontana luminosa con getto centrale, giochi d'acqua laterali in movimento e di forte impatto scenografico o in alternativa a una simile abbinata ad uno schermo d'acqua sul quale è possibile proiettare filmati. Il pubblico presente, con cittadini, operatori turistici e commerciali, ha espresso molti consensi e formulato alcune proposte, ma anche il desiderio di una conoscenza più dettagliata per potersi esprimere con migliore cognizione di causa. A tal fine è già stato convocato un incontro. Per il prossimo 3 maggio alle 21 ancora l'hotel Majestic per verificare ulteriormente se esistono le condizioni per concretizzare il progetto.